Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Mass Effect 3 Siamo, se vi ricordate, sbarcati su un pianeta, si chiama Noa, Nocea, una cosa del genere, non ricordo E andiamo avanti con la missione ragazzi, vediamo cosa dice questo team A che parte per il tuo superiore? Sempre avanti e poi dietro l'angolo, oltre la prima barricana Grazie, andiamo? Oh, cos'è cos'è? E' un ragazzo attenti, ma andiamo aggressivi Ah, ok Trovo l'ufficiale al comando, è una parola Ah, forse è la... No, questo qua, forse... Topesti, schiera i tuoi uomini lungo la barriccata a nord Sì, signore Sergente Barthus, trovi il modo di rendere operativa quella torre comunicazioni Sì, signore Generale? Avevo sentito del suo arrivo, ma non ci credevo, sono il generale Corintus Sono qui per scortare Fedorian Il primarca Fedorian è morto La sua navetta è stata abbattuta un'ora fa, mentre provava a lasciare la luna Questo complicherà le cose Mi dispiace, so che era un brav'uomo E' un amico Sarebbe stato un ottimo diplomatico E ora che succederà? La gerarchia Turian stabilisce chiare linee di successione Ok, generale Corintus Con perdite così pesanti mi è difficile stabilire con certezza il prossimo primarca Ci penserà il comando di Palavent Tuttavia, al momento non riusciamo a contattarli La torre comunicazioni è andata L'area è infestata dai mutanti Non riusciamo ad avvicinarci per ripararla Generale, non si preoccupi, riattiverò la vostra torre Grazie, comandante Io mi occuperò del resto Ok, andiamo Dai ragazzi aggressivi Dai Vedo la torre comunicazioni A sinistra della barricata principale Di fronte al padre Via da qua, via da qua Andiamo Ma non riesco a capire se la sensibilità che è alta O il mio mouse che... Che impazzito Da qua Ok Vediamo, eh Dove cazzo devo andare qua? Aspettate, ragazzi Ripara la torre Ci uniamo noi ragazzi Tranquilli Oh merda Prendiamoli di sorbalzo Ragazzi, eh Uno Due E un Tre Vai Ole Beh Facile direi, ragazzi Ma che cazzo è? Porca merda Porca merda Muori Bastardo, muori Oh Mamma mia Ragazzi L'ho vista brutta L'ho vista brutta Dai Mettiamo a posto sta roba Mamma mia ragazzi Non possiamo ripararla da questo pannello E beh Robi James Pensaci tu a riparare la torre Vai Vado Potrebbe volerci del tempo Ma farò del mio mezzo Vai, vai Non parlare, vai Bene Ora dobbiamo difendere Merda Dov'è, dov'è, dov'è Dov'è Uomamia Headshot Headshot Mamma mia Che cazzo è brutta Caricarica Ricarica No Sono troppi Sono troppi Via, via, via Via Shepard Via Caricarica Ricarica Mori È ora Ancora Ancora Sono troppi Via, via, via Mamma Grande Shara Grande Liara Come cazzo ti chiami Shara Mori Via, via Generale Mi riceve La torre comunicazioni è operativa Eccellente La ringrazio comandante Il comando su pala Ve ne assegnerà Un nuovo ufficiale Sempre che siano ancora vivi Mi avvisi Non appena sa qualcosa Nel frattempo Cercherò di aiutare I suoi uomini Ricevuto Oh no ma che esplosione È morto Mamma mia St'arma fa cagare Fa cagare Fa Tremendamente Cagare St'arma Vuoi andare tu Dai Lascia stare la mia amica Mori Che cazzo ce ne sono Via, via, via Grande Liara Grande Grandi così Mori, muori Dove sono Dove sono Dove sono Sento dei versi ma Non li vedo Dove cazzo sono Sento dei versi ma Eccolo lì Dai ragazzi Difendiamo Aspettaci voi Beh crepa Comandante Shepard Risponda Sì ci sono Ho ricevuto istruzioni dal comando Subalaven Deve rientrare subito Merda Arriviamo Di qua, di qua Andiamo raga Muoviamoci Dai 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 Ma non è che velocità Usain Bolt è arrivato ragazzi Guardate che velocità In 5 minuti Siamo già qua Dove cazzo è andata qua Guardate ragazzi Bella Come ha detto la vostra socia In genere la successione è semplice Ma al momento la gerarchia è nel caos Troppi morti o dispersi Mi serve qualcuno Non importa chi Basta che possa procurarmi la flotta Turian Ci sto lavorando Shepard Troveremo il Primarka Tossa voce? Garrus Garrus Vakarian signore Non l'ho vista arrivare Riposo generale Da quanto tempo Lieto di rivederti Ti credevo su Palaven Se perdiamo questa luna Perderemo Palaven Sono la cosa più dannatamente vicina A un esperto delle forze deraziatori Perciò sto Consigliando James Questo è Garrus Vakarian Mi ha aiutato a fermare i collettori È un soldato straordinario Grande Garrus Tenente Lieto di vederti Lieta di vederti sano e salvo Garrus Il generale Corintus Mi ha spiegato tutto Sappiamo che dobbiamo cercare Il comando di Palaven Mi dice che il prossimo Primarka È il generale Adrian Victus Victus Ho sentito il suo nome Lo conosci Garrus? Ho combattuto al suo fianco questa mattina Una vita nell'esercito Ottiene risultati Ed è popolare fra le truppe Non altrettanto popolare nel comando militare È noto per interpretare liberamente Le strategie assegnate La strategia non convenzionale È l'unico modo per salvare Palaven e la Terra Farà tutto il necessario Mi ricorda un vecchio spettro umano Che conoscevo Ok Mettiamolo sulla navetta E andiamocene Comandante Shepard Rispondi Joker Non può aspettare Siamo in una zona di guerra Abbiamo un problema sulla Normandy Comandante È come se fosse posseduta Sta spegnendo i sistemi E caricando le armi Non riesco a trovarne la fonte La Normandy deve essere pronta In caso di ritirata Vuoi che torni sulla Normandy A dare un'occhiata? Certo vai Garrus Hai detto che eri convictus stamattina Sì Ma ci siamo separati È andato a rinforzare un fianco Che stava cedendo Potrebbe essere ovunque Stiamo provando a contattarlo Comandante Mettitora in arrivo Oh merda Oh merda Cos'è? Non me li ricordavo così No Mettitori Oh merda Generale Dica a Dictus Che lo incontreremo lì Dai dai Intanto andiamo a occuparci Di ciò che lancerà Quell'affare Vieni con noi? Ti copro le spalle Ok Ditemi dove andare Dove? Base aerea Ci dà Dai andiamo raga Aspetta 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 Oh Ok Oh livello 7 ragazzi Dai così No eh Di qua non ci fanno passare Ah di qua Ok James Sei tu che respiri così affermosamente L'atmosfera è un po' meno detta di quella a cui sono abituato Tutto qui Ma l'adrenalina è il meglio dell'ossigeno Porca trota Mori 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 Star ma fa proprio cagare Quella miglia Che buona che ho Guarda che sono peggio Oh che cazzo c'è? Sei giù Sei giù O questi razziatori sembravano dei tuoi Vai con la bomba Madonna mia Ammazzateli Non sono più Ah mazzo Oh muori no Non muore Porca loggia Oh porca puttata Muori Mi stanno devastando Tenzo rotoloso qui Aiaiaiaiaiai Aiutami Aiutami Aiutatevi Mal Come scappa Mori Headshot Però non muoio stai qua Non mi prenderai Ragazzo Hai capito male Non sai con chi ti intercom né No Grandi così Grandi Quella cosa c'è? Che cazzo è? Veniamo Non esplodere No, non cazzo Affanbagno Ora fatemi trovare un po' di munizioni va Eccole qua Venite da qua qua Bene, possiamo anche andarci da qua Aspettate questo No, non è un cazzo Andiamo, ce ne va Quante munizioni sparse Bene Ci sono Sto ancora cercando di contattare il Primarca Ma abbiamo problemi qui alla barricata principale I razziatori non devono superarla Oh cazzo Arrivo subito Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Oh, siamo Grande Vai così Vai così Oh merda Oh, muori, muori Oh cazzo Mi faccio fuori tutti Anche tre alla volta Wahoo Oh no Oddio Mori Avanti, coraggio Chi è il prossimo? Oh, non di qua Non di qua Non di qua Non di qua Via via Sono troppi ragazzi Sono troppi Sono sopra di noi Oddio, dov'è, dov'è, dov'è Ehi, è come sparare La croce rossa Vai, così È un vecchio detto umano Mi va stanti Attenzione Arriva un'altra ondata Da dove? Da qua Dai Oh merda No, questo qua no Mamma mia Che divasto Hai capito male Giù, ragazzo È lo mio Che stavi a casa tua Oh merda Vai, così Vai, così Ma sono infiniti Oh, via, via Ok Oh merda Cos'è Che diavolo è quella cosa? Oh merda Oh merda Oh cazzo Oddio 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 Aiutatevi Ragazzi Ragazzi Madonna No, ci sono pure i robi Merda, merda Secca, merda Via, 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 via Muori, muori Ti aiuto io Attacchiamo il brutto Dai un po' di Ah merda Via, 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 via Grande Muori, muori Aiuto io, ti aiuto io Cazzo Porca boia Carica, carica Perché sono tornati in vita? Che è che le ha rifatti? Oh merda Mori, mori È morto Venita pure tu Via, via È morto il brutto Oh mamma Si fa serio Che notizie dal primarca? Non abbiamo ancora un collegamento stabile D'accordo Andrò a piedi Shepard Chiudo Garrus Portami dove hai visto Victus Mamma mia ragazzi Si fa serio Siamo all'inizio La fine come sarà Devastante Quanto manca? Dovremmo metterci poco Però se corri Regarde, questo gli fa anche un piacere Grazie Dai corri però Un po' di grinta Non è che siamo in vacanza Dai Oh, veloce Accidenti Guardate Palavin In quel bagliore arancione Quello grosso Sì Lì sono nato io No È dura Ancora famiglia laggiù Mio padre e una sorella Va così male Tre milioni di morti il primo giorno Cinque il secondo Merda E le vostre forze armate? Guardati intorno Dovrebbe darti l'idea Vi state facendo valere Per ora Ma quanto si può resistere di fronte a un attacco del genere? Ti muovi però Se solo avessero ascoltato i tuoi avvertimenti sui razziatori Ci saremmo fatti trovare pronti Ma Difficile pensare a come prepararsi a una cosa simile Tu che sei andato? Oh oh Ma vaffanbani Ti nascondi eh Cos'è? Cos'è? Porca troia Oddio Via 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 Mamma mia Andiamo ragazzi dai Faccio strada io Perché questo qua È troppo lì Oh Dov'è Garrus? Dov'è Garrus? Oh se rangerla io vado via Andiamo va Intanto la strada la so Insomma è tutta dritta però Eccoci qua Soldato Va bene? Signore Hai visto il generale Victus? Mezz'ora fa Diretto a sud Bene Sì signore Possiamo andare raga Andiamo Dai 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 Oh merda Questa volta ce la siamo vista Ma perché sempre quando passo io Devo succedere queste cose E mo? Da dove cazzo si fa? Dov'è che si passa mo? Si è cagato in mano Da qua sotto? Andiamo raga Dimmi comandante Credi davvero che il Sumit funzionerà? Voglio dire Asari e Salarian Dove sono i Krogan e i Batarian? I veri pezzi grossi? E arriveranno Non è così semplice Merda I Batarian sono state le prime vittime dei razziatori Di loro non resta granché E i Krogan non ci hanno mai perdonati per la genofagia Giusto I Turian li hanno sterilizzati Ma è stata un'idea dei Salarian Bene ragazzi Quindi E perché non si uniranno a noi? Zitto Voglio chiudere il video Ho combattuto con un Krogan Loro si che ci sanno fare Quindi direi che anche per oggi Per questo video è tutto ragazzi Sono già passati circa 20 minuti Quindi Chiudiamo qua Perché se no il video diventa veramente troppo lungo Quindi Come sempre Ci vediamo al prossimo episodio Grazie dei mi piace Grazie dei commenti Che mi fanno sempre piacere Da Simulator è tutto Sto fermo qua perché anche spunto qualcuno Ci vediamo ad un prossimo episodio Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti